Ciao a tutti, benvenuti a questo webinar. Io sono Marco Matarazzi e sono il cofondatore e CEO di Slope, software gestionale cloud tutto in uno per hotel. Oggi vi parlerò di incassi con carta. Facciamo chiarezza sui costi. Quindi parleremo dei costi che sostiene un hotel per processare pagamenti con carte di credito, carte di debito e così via. Quindi come funzionano essenzialmente questi sistemi di incasso? La presentazione è divisa in due parti. La prima parte è quella relativa alla spiegazione di come la PSD2, una direttiva entrata in vigore a gennaio del 2018, ha portato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il mondo dei pagamenti, specialmente nel contesto alberghiero. Vediamo in questa prima fase della presentazione quali sono gli strumenti, sia software che bancari, di cui ha bisogno l'albergo per poter operare, per poter mantenere vivi quei processi operativi di incasso che sono appunto stati cambiati, scombussolati, sconvolti dalla PSD2. Nella seconda parte dell'intervento cercheremo di capire più nel dettaglio la struttura dei costi, quanto costa processare una transazione. Quindi vedremo come la componente, le tre componenti che determinano i nostri costi sono l'interchange fee, la skin fee e l'acquiring fee. Quindi questa teoria ci servirà poi per capire i due macro modelli di pricing che applicano le banche. Il primo prende il nome di blended, il secondo prende il nome di interchange plus plus. Il nostro obiettivo sarà quello di capire la differenza tra questi due modelli, così da scegliere quello per noi più conveniente. Quali sono quindi i principali processi di incasso? Dal punto di vista pratico, in hotel noi possiamo processare dei pagamenti, quindi degli incassi, in due modi. Il primo è con carta presente, quindi con l'ospite fisicamente presente in struttura, che ha la sua carta di credito o di debito in mano, oppure che vuole pagare sempre da quando questo è presente in struttura con il proprio smartphone, oppure con lo smartwatch e così via. Quindi il cliente utilizza il nostro POS fisico per processare un pagamento per un soggiorno, per un servizio extra e così via. Questo è il primo caso. Il secondo caso invece è quello della carta non presente, quindi il cliente prenota da remoto, prenota da casa sua, prenota dall'ufficio, quindi senza essere fisicamente presente in struttura ci sta dando i propri dati di carta, ci sta fornendo le sue informazioni per poter appunto processare questo tipo di incasso. Quindi nel caso di pagamenti con carta non presente è il ramo che è cambiato maggiormente con la PSD2, proprio perché l'obiettivo di questa direttiva è stato quello di ridurre le frodi, o quantomeno cercare di ridurre le frodi, e l'anello debole in questo workflow di incasso è essenzialmente tutte le transazioni con carta non presente, quindi tutte quante quelle operazioni che avvengono online, oppure telefonicamente, oppure tramite mail. Nel nostro contesto alberghiero sappiamo come la natura del business dell'hotel faccia largo uso delle transazioni con carta non presente, ed è per questo che la PSD2 è stata di particolare impatto per il nostro business alberghiero. Quindi la differenza sta nel fatto che le operazioni con carta non presente ad oggi devono essere autorizzate con un'autorizzazione forte, che appunto prende il nome di SCA, un'autenticazione forte, strong customer authentication. Senso entrare troppo nel dettaglio perché non è l'obiettivo di questo videocorso, diciamo che la SCA, quindi strong customer authentication, prevede che all'atto del pagamento di una somma da parte del nostro cliente, istituti finanziari, quindi quelli che hanno messo in mano al nostro cliente la carta di credito, la carta di pagamento, devono verificare almeno due su tre fattori, tra qualcosa che il cliente sa, una password, un PIN, un codice, eccetera, oppure qualcosa che il cliente ha, per esempio le app generatrici di codici o un telefono cellulare, o qualcosa che il cliente è. Quindi tutti quanti quegli aspetti biometrici come l'impronta digitale, il riconoscimento facciale, eccetera. Quindi fare un'autenticazione forte significa che il cliente ci fornisca almeno due di questi tre fattori. Ogni operazione che soddisfa questo requisito è un'operazione che è meno soggetta a frode perché abbiamo la certezza che effettivamente è Mario Rossi, proprietario della carta, che sta effettivamente autorizzando quel pagamento. Se pensiamo però al workflow che doveva seguire l'hotel prima dell'arrivo della PSD2, ahimè alcuni alberghi ancora tutt'oggi mentre registro questo video, seguono questo workflow, come funzionava? Facciamo l'esempio della prenotazione telefonica, no? Oppure una prenotazione email. Il receptionist risponde al telefono, dall'altro capo della linea c'è Maria Verdi che vuole prenotare un soggiorno da noi. Al cliente vengono spiegate le condizioni di prenotazione per il soggiorno, quindi arrivo dal 5 al 10 maggio, parzialmente rimborsabile, ossia una prenotazione che entra in penale con cancellazione entro una settimana, eccetera, eccetera, eccetera. La signora Maria accetta le condizioni che noi raccontiamo al telefono e prima, quindi ai tempi d'oro, prima della PSD2 ci forniva il numero di carta, il proprio numero di carta di credito nello specifico. Che cosa faceva il receptionist? Si salvava questo numero su un foglietto magari e lo metteva nella scheda della prenotazione di Maria, con tutte quante le informazioni su presunto arrivo, eventuali note, eccetera. Quindi questo numero veniva proprio trascritto. Oppure, per chi magari è più evoluto, salvava queste informazioni all'interno del proprio PMS, che offre comunque il servizio di salvataggio di dati di carta. Quindi comunque abbiamo un'informazione che è salvata in chiaro, ossia un'informazione che può essere ripescata da un operatore. Nel caso di cancellazione o nel caso di non-show, quindi nel caso di cancellazione con penale o nel caso in cui il cliente non si presenti proprio in struttura, si processa un addebito. Quindi è previsto che quel numero di carta veniva utilizzato per processare un pagamento sul PANMANU, sul POS fisico. E questo lo si faceva con il termine PANMANUALE, quindi l'inserimento dei numeri sul POS, oppure tramite, sì, sempre un altro modo di chiamarlo è un'operazione moto, mail order, telephone order. Sono la stessa cosa essenzialmente e consistono nell'inserimento, nella digitazione dell'inserimento manuale dei numeri sul POS fisico. Come potete intuire, questo processo prima funzionava, ad oggi non più, perché che cosa manca? Manca la strong customer authentication. In questo flusso manca la SCA, quindi la possibilità di dimostrare che dall'altra parte il cliente ha effettivamente autorizzato quell'incasso. Quindi questo processo operativo che prima funzionava, oggi non funziona più, si è rotto in qualche modo. E si è rotto per due macro motivi. Il primo è perché il salvataggio della carta, in chiaro, di sua natura non è sicuro. Non è sicuro perché receptionist hanno accesso ai dati della carta, tutte le persone che orbitano il reception possono vedere quei numeri di carta e possono teoricamente processare qualsiasi pagamento, cosa che noi vogliamo evitare. E poi lo possono fare attraverso un'operazione manuale, quindi richiede del lavoro manuale per processare un addebito. E anche questo è un problema, perché comunque tutte quelle operazioni manuali sono propense ad errore, sono propense ad essere dimenticate e così via. Il secondo macro blocco di problematiche è quello che, come accennavo poc'anzi, manca l'autenticazione SCA. Quindi manca la SCA. Il PAN manuale ha un costo in termini di commissioni, proprio perché manca la SCA, è un'operazione più soggetta al rischio e, nello specifico, una tipologia di costo, che è l'interchange fee, per processare pagamenti senza SCA, vedremo poi che cosa significa interchange fee più avanti in questa presentazione, ha delle commissioni più alte. Quindi, ultimo, ma non per importanza, il rischio di contestazione da parte del cliente è più alto. Quindi il cliente può disconoscere quell'operazione e possiamo incappare in problematiche dove il cliente dice, no, io non ti ho autorizzato, le condizioni non erano chiare, rivolgo indietro i miei soldi. E dal lato nostro, come albergatori, dimostrare che Maria Verdi effettivamente era a conoscenza delle nostre condizioni non è sempre facile e ci porterà via tempo e necessariamente anche denaro. Qual è la soluzione? Abbiamo raccontato un problema, qualcosa che prima funzionava, poi non funziona più, adesso dobbiamo trovare una soluzione. Noi con Slow Pay abbiamo risolto quattro principali pilastri di processi operativi che si sono rotti, che si erano rotti. Il primo è il pagamento contestuale nel booking engine o nella pagina preventivi. Quando il cliente sta prenotando attraverso il nostro booking engine noi dobbiamo intervenire con un gateway che ci permetta di incassare contestualmente alla prenotazione un acconto, una caparra, un importo diciamo. Quindi il 30%, il 50%, l'80% o il 100% della prenotazione. Questo contestualmente ha la prenotazione, quindi processo il pagamento in maniera contestuale. Oppure, nel caso magari dell'esempio di prima della signora Maria che prenota telefonicamente, voglio poter mandare una richiesta di pagamento alla signora Maria dicendo per confermare la tua prenotazione accedi a questo link e metti i tuoi dati di carta. Nell'inserire i tuoi dati di carta, per processare appunto il pagamento della percentuale che ho stabilito, dovrai inserire il codice SCA, quindi il codice 3DS, il codice di sicurezza che solo la signora Maria sa. Quindi noi avremmo una transazione che verrà autorizzata in maniera forte e noi siamo sicuri che quell'incasso è legittimo. Io posso utilizzare lo stesso link anche per richiedere una carta di credito a garanzia, quindi io chiedo alla signora Maria, guarda non ti addebitiamo nulla, ma tu fornisci, per confermare la prenotazione, i tuoi dati di carta. Noi li prendiamo, li salviamo in maniera sicura, ma li salviamo nel contesto di un'autenticazione forte. Quindi anche se non processiamo un incasso, prendiamo un riferimento a quella carta e quando lo prendiamo ti chiediamo di autorizzarla in maniera forte. Una volta che la carta l'abbiamo ottenuta, la conservo, la conservo sotto forma di quello che prende il nome dal punto di vista tecnico di token. Un token è un identificativo, è come se la carta di credito vera e propria della signora Maria sia nel cavo della banca e noi abbiamo solo il riferimento a quel numero di carta, come se fosse un codice cifrato. Dal mio gestionale posso dire fai un addebito su questa carta che si chiama ABC123 che corrisponde nel cavo della banca alla carta 42, 12, eccetera, 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 a tutti quanti i suoi numeri. Un token che è stato salvato sempre con SCA. Sembra un disco rotto, continuo a ripetere il concetto di SCA, ma è fondamentale questa verifica forte. L'ultimo punto, l'ultimo processo operativo che con Slow Pay abbiamo risolto è l'interfacciamento tra il nostro gestionale e lo smart POS, quindi il sistema di incasso fisico che avete lì in hotel, il POS essenzialmente quello fisico e non quello virtuale che abbiamo attaccato al booking engine. Questo è il quarto punto. Vi faccio vedere velocemente una schermata, questa che vedete è la schermata del dettaglio di una prenotazione, del signor Gianluigi Rossi. Da qua noi possiamo, per esempio, da dentro la schermata della prenotazione, quindi siamo dentro il nostro gestionale, richiedere una carta di credito a garanzia oppure richiedere un pagamento. Non devo uscire e andare su un altro sistema, sul sito della mia banca, per ritrovare la prenotazione e richiedere il link, ma lo posso fare direttamente da qua. Posso poi mandare questo link tramite Whatsapp, tramite email, con qualsiasi strumento io voglia. Una volta che ho collezionato la carta, questa carta viene salvata, viene o processata e salvata, o anche solo salvata, all'interno della scheda della prenotazione. E da qui posso incassare, quindi processare un incasso o preautorizzare un importo, se voglio verificare che effettivamente ci siano somme. E poi, ecco, il terzo punto è quello di poter attivare il nostro POS fisico che si trova sul nostro bancone per magari richiedere il pagamento quando abbiamo la carta presente, quindi il cliente fisicamente in hotel, attivo il POS dicendo al POS attivati per 642 euro di incasso, per esempio. Il cliente appoggia la sua carta e il pagamento viene riconciliato nella scheda di prenotazione. Tutto quanto senza errori e senza dover digitare manualmente l'importo sul POS. Questo è l'ultimo schema, prima di iniziare a parlare dei costi veri e propri e di come questi costi sono strutturati. In questo schema, nella parte destra, abbiamo raffigurato il concetto di Slow Pay. Abbiamo al centro il nostro gestionale dove è integrato questo sistema, integratore di sistemi di incasso, perché Slow Pay non è una banca che non processa pagamenti, ma orchestra dei sistemi bancari di acquiring, appunto si chiamano, per incassare, preautorizzare, eccetera. Quindi lo fa attraverso l'invio di pagamenti tramite link, il primo schematizzato dal cellulare sul blocco di destra ma nella parte più sinistra, booking engine e ovviamente il coordinamento del POS fisico. I vantaggi principali che abbiamo con Slow Pay sono quelli di semplificare la riconciliazione degli incassi. Ho sempre tutto riconciliato nella mia scheda di prenotazione, quindi evitiamo errori umani, errori di addebito, ma riduciamo anche il rischio di contestazioni proprio perché tutte le operazioni avvengono sempre con verifica forte. Questo perché abbiamo tutti gli strumenti per poter evitare l'utilizzo del PAN manuale che è quello strumento che non funziona più. Così facendo azzeriamo anche la responsabilità di gestione delle carte per il discorso dei token che vediamo prima. Di fatto il nostro receptionist non ha più accesso al numero della carta, ma ha il riferimento a quella carta. Non può utilizzare quella carta per andare su un sito di scommesse e acquistare del credito. No, è salvata ed è riferita alla prenotazione e solo operazioni per quella prenotazione possono essere effettivamente effettuate e quindi noi possiamo concentrarci sul fare ospitalità, sul fare il nostro business senza curarci di salvare in maniera sicura le carte di credito che è qualcosa che è veramente oneroso da gestire e da evitare in tutti i modi per l'hotel. Questa è la mia raccomandazione se non altro. Quindi dopo questa premessa sui processi operativi, come questi siano cambiati nel tempo, cerchiamo di analizzare quelli che sono i costi che l'hotel deve sostenere per incassare con carta. Quindi alzando il sipario, andando a guardare dietro le quinte, cosa vediamo? Vediamo che un hotel generalmente paga due tipi di costi. Dei costi di gestione, quindi il canone bancario, andiamo in banca, sì per l'attivazione del suo POS le chiediamo 20 euro al mese, poi ne chiediamo altri 15 per il noleggio del POS fisico e poi iniziano il punto 3 e il punto 4 che sono i due costi che variano in base alle transazioni che facciamo. Quindi il primo è un importo fisso, 0,15 centesimi per ogni volta che processate una carta. E poi c'è l'importo percentuale, il numero 4, ed è qui che c'è Ciccia, ed è qui dove noi vogliamo andare a ragionare. Dobbiamo capire bene come si compone questo importo percentuale calcolato su ciascuna transazione che andiamo a processare. Ok, in questo schema partiamo dal basso, partiamo dai blocchi. Blocco magenta, costo transazione, è il costo finale che noi tendenzialmente vediamo come hotel. E questo costo però sotto è composto da tre diversi fee, tre diversi costi, l'acquiring, lo scheme e l'interchange. L'acquiring markup fee è la commissione applicata dalla nostra banca, quindi è la banca che dice lo 0x per cento te lo addebito ad ogni transazione che processi. Poi c'è lo card scheme fee, che è la commissione che invece applica il circuito, se sia questo Visa, Mastercard e lo fa perché ovviamente stiamo utilizzando il loro network e giustamente hanno un loro costo. L'interchange fee, l'ultima, è la commissione che invece addebita la banca del cliente, la banca del cliente, quindi quella che emetterà la carta essenzialmente. Se adesso cercassimo di capire bene come sono composte queste percentuali, partiamo da un caso pratico. Abbiamo il signor Mario che sta fisicamente in reception, avvicina la sua carta di credito al nostro post fisico, quindi noi siamo gli esercenti, il nostro post è in hotel, per processare un pagamento da 500 euro. Quindi il nostro post fisico cosa fa? Parla con la nostra banca e gli dice Mario Rossi con questa carta deve processare 500 euro, va bene? La banca dice aspetta un attimo che sento lo schema, lo schema dice aspetta un attimo che sento l'emittente. L'emittente è la banca del cliente, ovviamente io se la sto semplificando per spiegare un concetto, poi nei dettagli le cose sono più complesse di così, ma passiamo i concetti, cerchiamo di capire dove andare a guardare per ottimizzare i nostri costi perché è lì che importa. Quindi una volta che la richiesta ha fatto tutti quanti questi passaggi, esercente, acquirer, schema, scheme, emittente, torna indietro la risposta con il pollice in su, quindi risposta positiva, e viene, l'emittente si trattiene la sua interchange fee e se la tiene per sé. Lo schema dà a sua volta il via libera, passa la palla all'acquirer e si trattiene lo scheme fee e la banca per ultimo trattiene l'acquiring fee. Pausa un attimo, adesso qui noi abbiamo tre diverse fee, tre diverse commissioni che andiamo a pagare. Premetto subito che l'interchange fee, quindi quella tutta a destra e lo scheme fee, sono, variano in base alle tipologie di carta di pagamento e a una serie dinamiche che vedremo nella slide successiva, però non sono negoziabili, quindi anche se siete Marriott non potete andare dall'emittente o dallo schema e dire io voglio abbassare queste commissioni, non lo posso fare. Dove posso andare a intervenire è sull'acquiring fee, quindi lì quando vado in banca posso chiedergli quant'è l'acquiring fee che mi fai, dove possiamo arrivare, in base ai miei volumi di transato, più siete grandi ovviamente più l'acquiring fee può essere negoziata e ridotta, più si è piccoli, quindi meno è il transato che andiamo a fare e ovviamente meno potere contrattuale abbiamo. Quindi questa è la premessa. C'è di interessante da puntualizzare come ultima cosa che noi vediamo sempre un'unica fee per le transazioni che processiamo, perché è la banca nostra che ci fa da scudo e che per conto nostro si occupa di pagare lo schema e l'interchange. Si trattiene la sua quota, paga gli altri due e tutto funziona. Quindi non siamo noi che andiamo a pagare le singole componenti, le singole parti. Ok? Quindi, slide successiva. Quindi come vengono calcolate le commissioni di interchange e schema? Abbiamo visto che queste non sono negoziabili, ma non sono fisse. Sono due concetti diversi, no? Da una parte non posso negoziarlo col mio interlocutore, quindi gli importi sono uguali per tutto il mondo, ma variano. Variano in base a fattori, tipo se la carta è presente o carta non presente. Processare una carta su un gateway o sul booking engine costa un po' di più, perché il rischio è più alto rispetto a processarla sul post fisico. Lo schema Visa o Mastercard hanno dei costi diversi anche in base alla tipologia di carta, se è una consumer, quindi una carta di un privato, o di un business. Poi se è una carta di credito o una carta di debito, anche questo incide. E poi la regionalità della transazione, significa se sto lavorando con una carta europea, oppure no, oppure extra way, oppure della United Kingdom e così via. Quindi in base a che tipo di carta è. Quindi quello che si viene a creare è una matrice molto complessa, dove per ogni combinazione abbiamo una percentuale di addebito, di interchange e di schema che cambia essenzialmente. E saperlo a priori è veramente difficile. Qui vi riporto una tabellina più che parziale, con una serie di combinazioni, no? Carta presente, schema Visa, consumer, quindi una carta di un privato, di carta di credito, domestic italiana. Questo avrà un suo costo, al quale poi si aggiunge la parte negoziata che è l'acquiring fee. Quindi abbiamo visto prima che queste non sono fisse, nel senso che non sono uguali per tutto il mondo, ma possono essere fisse nel loro importo, ovviamente, e dipendono dalla banca con cui voi la negoziate. Ora, con queste premesse sulle varie tipologie di costo, uno dice ma io ho visto dei costi differenti online. E cerchiamo di fare chiarezza sui due modelli di pricing con cui escono istituti bancari. Il primo modello è il modello interchange plus plus, il quale modello applica una commissione diversa in base ai fattori che abbiamo visto prima. Quindi in base all'interchange e allo scheme fee, più l'acquiring, ho un modello dove ogni tipologia di combinazione di carta ha un costo per noi hotel differente, noi hotel in qualità di merchant, noi siamo dei merchant. Mentre il modello blended è un modello che appiana, che dice per ogni transazione europea paghi x%, per ogni extra way paghi y%. Quindi noi non abbiamo visibilità su come vengono calcolati quei costi, se la vedono loro. È una semplificazione. Quindi prendendo uno screenshot di un noto sistema di pagamento, vediamo qua che per le carte nello spazio economico europeo il costo è dell'1,4%, indipendentemente debit, credit e compagnia bella, al quale si somma un importo fisso 0,25 centesimi. Nel caso in cui la carta fosse del Regno Unito c'è un ulteriore supplemento, quindi avremo un 2,5% più 0,25 fisso. Per tutte le altre carte internazionali 2,9. Questo è sicuramente un schema molto facile da capire per un hotel che dice quanto spendo di carta, anche se lo devo raccontare al bar me lo posso ricordare, no? Oppure quando sto parlando con gli altri amici albergatori, pago l'1,4 e il 2,9. Ok, però possiamo fare meglio. E possiamo fare meglio con un modello meno standardizzato e più trasparente, passatemi il termine. Quindi in questo esempio, quindi qui abbiamo due grafici, adesso ve li racconto. Abbiamo messo a sinistra il modello di pricing blended. A destra il modello di pricing interchange plus plus. E abbiamo preso tre tipologie di carte. Card type 1, card type 2 e card type 3, dove possono essere uno Visa debit europea, Visa credit business, ognuno con le sue combinazioni. Quindi vediamo che tra il grafico di sinistra e quello di destra, le colonnine gialle e verdi sono uguali. Quindi il tipo 1 gialle e verde sia a destra che a sinistra è uguale. Gialle e verde nel secondo è uguale. Quello che cambia nel primo caso è la parte blu, l'acquire markup, che è quanto guadagna la banca su quella specifica transazione. Quindi nella carta di tipo 1, quando la commissione è fissa all'1,4% per tutte e tre le tipologie, quindi nella blended abbiamo un blu piccolino, poi il blu è più grande nella tipologia 2, quindi magari in quel caso lì la marginalità bancaria del nostro acquirer è molto più alta e si riduce ancora nella parte 3. Quindi questo significa che la nostra banca ci fa un po' da cuscinetto, ci garantisce un prezzo dall'1,4% e sotto se la vede lei. Quindi quando una carta magari a noi sarebbe costata lo 0,6% tu comunque la paghi l'1,4%. Quando a noi sarebbe costata magari l'1,3% tu comunque la paghi solo l'1,4%. Quindi praticamente il suo margine varia. Nel caso invece interchange plus plus, mediamente l'acquirer markup è fisso e viene negoziato, come dicevo prima. Quindi negoziamo uno 0,5% per esempio, che si somma allo skin fee e l'interchange fee, che sono quelle due fee variabili ma non negoziabili che vedevamo prima. Quindi in certi casi mi troverò a pagare di più, come nel car type 1. In altri casi molto di meno, in un altro caso ancora magari uguale. Quello che fa la differenza ovviamente è capire dove sta la media, dove sta la media dei miei volumi e varia in base alla tipologia di clientela che ho. Se ho più clienti di tipologia 2, ovviamente l'interchange plus plus sarà molto conveniente. Se li ho di tipologia 1, lo sarà di meno. Quindi quello che diventa molto difficile per gli hotel è capire essenzialmente dove è la sua media di pagamenti. C'è da dire che sicuramente l'interchange plus plus, essendo una cosa comunque calcolata sulla base dei due aspetti fissi che sono l'interchange dello scheme e un acquario markup che può essere negoziato, è mediamente più conveniente rispetto a una blended. Quindi statisticamente è più conveniente, salvo casi particolari. Poi ognuno li valuterà. Però il vantaggio dell'interchange plus plus è che abbiamo innanzitutto trasparenza sulle commissioni, mediamente abbiamo risparmio e poi abbiamo anche visibilità sulle varie tipologie di carte che hanno in mano i nostri clienti. Quindi sicuramente l'istituto bancario quando se ne esce con una blended uscirà con una marginalità che difficilmente è conveniente per noi e meno per loro. Quindi noi per questo quando abbiamo siglato un accordo con i vari partner di acquiring che utilizziamo per Slow Pay abbiamo scelto che questi utilizzassero esclusivamente un modello interchange plus plus perché il nostro obiettivo è quello di assicurarci che l'hotel riesca a ridurre al minimo le proprie commissioni, le proprie spese e che abbia anche un modello che sia trasparente e che dia visibilità su quanto costa transare ogni singola tipologia di carta. Oltre ovviamente a costruire sopra, quindi da una parte abbiamo un concetto che trasparenza sui costi dall'altra semplificazione dei processi operativi di incasso. Quindi con tutte quante le cose che abbiamo visto prima, il richiesto di pagamento di carta tramite link, il gateway per il nostro booking engine o per la parte di preventivi che mandiamo ai clienti ed ultimo ma non per importanza l'integrazione con il post fisico. Dopo questa veloce carrellata tiriamo le somme. Quindi secondo me ad oggi non possiamo prescindere dall'avere un sistema di incasso integrato nel proprio software gestionale PMS. Quindi nel PMS dobbiamo avere l'integrazione con i nostri strumenti di incasso, siano questi tramite link o siano questi post fisici. Allo stesso modo anche nel nostro booking engine, nel nostro form preventivi, dobbiamo avere un gateway che sia probabilmente speriamo il medesimo proprio perché per semplificare anche la riconciliazione dei vari incassi utilizzare un unico metodo, un unico fornitore, un unico acquirer è sicuramente esemplificativo oltre che essere economicamente conveniente. Dopodiché credo che dobbiamo avere consapevolezza di quali sono le commissioni che stiamo pagando e ovviamente il primo passo per capirlo è attraverso la scelta di una soluzione che sia trasparente come lo è l'interchange plus plus come modello di vendita. Quindi abbiamo puntato su funzionalità, trasparenza e riduzione dei costi. Questo è l'obiettivo proprio perché la materia, parlando con gli albergatori, sono pochi quelli che hanno visibilità reale sui costi che sostengono, che sono stati in grado di negoziare un buon accordo economico per quanto riguarda le commissioni con carta, che sono comunque una spesa che alla fine dell'anno, specialmente per hotel medi, medi e grandi, spostano e creano e fanno la differenza. Concludiamo riportando alcune risorse utili. Nella descrizione di questo video vi riporto un mini book che potete scaricare gratuitamente, che è La rivoluzione dei pagamenti in hotel. Lo trovate anche in formato Kindle su Amazon, oppure potete richiedermi una copia gratuita cartacea che posso mandarvi a marcochiocciolaslope.it, scrivetemi un'email. Vi riporto anche il mio libro Ospitalità 4.0, Guida pratica per l'albergatore moderno. Non parliamo di pagamenti su questo secondo libro, ma parliamo di strategia, di alberghiera, quindi dalla definizione dei canali di distribuzione al pricing, passando ovviamente per i meta search e tutti gli ambiti della distribuzione. e ultima risorsa che credo possa essere utile è il nostro podcast Ospitalità 4.0, che trovate anche su Spotify. Trattiamo di argomenti di vario genere, dal revenue management al marketing all'analisi dei costi, tutto quello che serve ad un albergatore per poter lavorare meglio, all'albergatore e al suo team. Grazie a tutti per l'attenzione, buon lavoro a tutti e un saluto.